Il neosindaco di Sarno, Francesco Squillante, ha lavoro per portare avanti i punti del programma su cui ha basato la sua campagna elettorale. Tra le priorità ci sono la sicurezza, la sostenibilità e la pianificazione del distretto urbano del commercio. Squillante punta anche a investire sulla zona PIP e a completare le opere pubbliche già avviate, come la scuola dei amici Sbacelli, per restituirla alla cittadinanza entro il nuovo anno scolastico. Sul fronte della cultura, il primo cittadino ha invece annunciato l'intenzione di istituire un premio nazionale, dimostrando la volontà di valorizzare e promuovere anche il patrimonio artistico e culturale del territorio. Un programma estiva per i sarnesi, proprio ieri ho avuto l'incontro con Don Roberto Farruggio per quanto riguarda il periodo estivo della festa dell'Assunta. Settimana prossima avremo la Madonna delle Grazie a lavorate, ma diciamo che già abbiamo iniziato a lavorare.